è stato il primo esperimento con le scuole locali atto a sradicare il concetto di degrado legato alla villa comunale un'occasione sperimentale per dare vita a uno dei luoghi più importanti della città con le iniziative degli studenti un momento d'incontro fatto di musiche sfilate culminato poi nella nuova opera dell'artista Giovanni Timpani un'altra parete della biblioteca comunale infatti conquista un personaggio legato al territorio stiamo parlando questa volta di Gian Giacomo Egg lo svizzero che fondò la famosa Finlanda nel 1813